E' dietro di te? Sì, 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 buongiorno a tutti! Me l'ho fatto un belleggiando al mio tre! Uno, due, tre! Questo lo fanno nelle case anziane! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Al mio tre verifichiamo! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Verifichiamo! E poi chiudiamo con un barindone proprio la R pronunciata all'inesima potenza, ok? Uno, due, tre! Vai! Grazie mille per essere venuti! Ringrazio tutti i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze, ma soprattutto i genitori. E so che comunque passare tutto il saluto per un minigio in un centro commerciale è bello, però ci sono anche altre cose. Ma l'aggianta! Quindi grazie per la pazienza, prenderò il tempo per ognuno di voi, quindi vi regalerò un braccialetto.